Ciao! Questa è Bibbia in un anno, giorno 304. L'autore Rabindranath Tagore ha scritto «Ho sul mio tavolo una corda di violino. È libera di muoversi in qualsiasi direzione io voglia. Se ne torco un'estremità, si muove. È libera. Ma non è libera di suonare. Così la prendo e la fisso nel mio violino. La lego e quando è legata è libera per la prima volta di suonare. La vera libertà si ha quando ci leghiamo a Gesù e fissiamo i nostri occhi su di Lui. Come la corda del violino prende vita quando viene legata al violino. Così noi prendiamo vita in Cristo. Gesù è il grande liberatore. Ci rende liberi. Il cuore del cristianesimo è la relazione con Gesù. Gesù è morto per noi. È stato risuscitato ed è vivo oggi. Non possiamo vederlo fisicamente, ma possiamo vederlo con gli occhi della fede. Riferendosi a Gesù, l'autore di Ebrei dice Lo vediamo coronato di gloria e di onore. Più avanti scrive Tenendo fisso lo sguardo su Gesù, colui che dà origine alla fede e la porta a compimento. Egli è l'autore della nostra fede e l'autore della nostra salvezza. Una salvezza così grande. La domanda che ci poniamo oggi è Che cosa comporta questa salvezza? E da cosa siamo stati liberati? Commento ai sapienziali Libertà dalla paura Come cristiani non dovremmo avere paura di nulla né permettere che la paura del nemico ci rallenti. Nel libro dei proverbi è scritto Il pigro dice C'è una belva per la strada Un leone si aggira per le piazze Ogni ministero cristiano si scontra con belve feroci per la strada Non dovremmo lasciarci scoraggiare dalla paura che porta all'inerzia e alla mancanza di attività Gesù ci rende liberi di avanzare senza temere l'opposizione La libertà è l'antitesi dell'apatia Lo scrittore prosegue mettendo in guardia da ogni tipo di pigrizia Ci avverte di non lasciarci coinvolgere nelle discussioni altrui Mette in guardia anche dagli scherzi che comportano l'inganno Il modo migliore per sanare un litigio è smettere di spettegolare Come senza legna il fuoco si spegne Senza pettegolezzi il litigio si calma Per molte persone ascoltare i pettegolezzi è allettante Le parole del calugnatore sono come ghiotti bocconi che scendono fin nell'intimo Ma ascoltare i pettegolezzi è altrettanto grave quanto spettegolare Come ricevere bene i rubati è altrettanto grave quanto rubare Nei litigi siamo chiamati a non mettere mai benzina sul fuoco A portare guarigione e a essere operatori di pace Signore Ti ringrazio perché attraverso Gesù possiamo essere liberati dalle nostre paure Aiutaci ad essere audaci di fronte all'opposizione e a non permettere che la paura ci rallenti Commento al Nuovo Testamento Libertà dal peccato e dalla morte La lettera agli ebrei è scritta per metterci in guardia dalla deriva La maggior parte delle persone non smette di essere cristiana improvvisamente ma gradualmente andando alla deriva In questo avvertimento l'autore di ebrei include se stesso Dice Per questo bisogna che ci dedichiamo con maggiore impegno alle cose che abbiamo ascoltato Per non andare fuorirotta Se infatti la parola trasmessa per mezzo degli angeli si è dimostrata salda E ogni trasgressione e disobbedienza ha ricevuto la giusta punizione Come potremo noi scampare se avremo trascurato una salvezza così grande? Se nel primo capitolo l'autore di ebrei afferma la divinità di Gesù Nel secondo dichiara la sua umanità Doveva rendersi in tutto simile ai fratelli Gesù si è reso simile a noi in quanto È diventato per un po' di tempo di poco inferiore agli angeli Proviene da una stessa origine Ci chiama fratelli e sorelle Condivide la nostra umanità È stato fatto come noi in tutto e per tutto Ha sofferto nella tentazione Ma aggiunge Sebbene Gesù sia stato tentato in ogni modo proprio come noi È senza peccato Questo dimostra che la tentazione non è peccato Quando siamo tentati Non dovremmo permettere al diavolo di sottometterci Il fatto che Gesù stesso sia stato tentato Significa che nella tentazione è in grado di aiutarci Era come noi Ma diverso da noi Per quanto riguarda il peccato È così incoraggiante sapere che Gesù ha sperimentato L'intera gamma di esperienze ed emozioni umane Capisce e simpatizza con noi Ed è anche importante che fosse senza peccato Non abbiamo solo bisogno di un amico che sia solidale con noi Abbiamo bisogno di un Salvatore Gesù è allo stesso tempo pienamente divino E pienamente umano E questo gli ha permesso di raggiungere una salvezza così grande Attraverso la sua morte e risurrezione Egli è in grado di colmare il divario tra noi e Dio In questo passo l'autore ci parla di una serie di cose riguardanti la morte di Gesù Sulla croce Gesù ha provato la morte a vantaggio di tutti Ha ridotto all'impotenza il diavolo Ci ha liberati dal timore della morte Ha esposto i nostri peccati Ci ha guidati verso la salvezza E' stato reso perfetto attraverso la sofferenza Una persona libera non ha paura di pensare alla morte Qualcuno ha detto che in ultima analisi Tutte le nostre paure sono legate alla paura della morte Liberandoci dalla morte e dalla paura della morte Gesù ci ha dato la possibilità di liberarci da tutte le altre paure L'autore di Ebrei dice che Gesù ha provato la morte a vantaggio di tutti In modo da ridurre all'impotenza mediante la morte Colui che della morte ha il potere Cioè il diavolo E liberare così quelli che per timore della morte Erano soggetti a schiavitù per tutta la vita Dice inoltre che Se i doni dello Spirito Santo sono stati dati a tutti E non solo agli apostoli Lo stesso vale anche per i segni I prodigi e i miracoli Per questo anche oggi non dovremmo escludere la possibilità Di segni, prodigi e miracoli Ad accompagnare la predicazione del messaggio di Gesù Gesù Grazie Perché sei stato disposto a soffrire E a provare la morte per noi Grazie Per averci liberati E per aver reso possibile La libertà dalle conseguenze del peccato E dalla paura della morte Commento all'Antico Testamento Libertà dall'ingiustizia Viviamo in un mondo di terribili ingiustizie Ad esempio Si stima che nel mondo Ci siano oltre 20 milioni di persone Costrette al lavoro forzato Due milioni di bambini venduti ogni anno E livelli di schiavitù superiori A tutti i 350 anni di storia Della tratta transatlantica degli schiavi Il libro di Abdiah Promette che il mondo Non sarà sempre così Un giorno Quando il regno di Dio Si manifesterà nella sua pienezza Ci sarà giustizia per tutti Il nome Abdiah Significa Uno che serve e adora Yahweh In questo libro Il più breve dell'Antico Testamento Abdiah Di cui non sappiamo praticamente nulla Precede la caduta Di uno dei nemici del popolo di Dio Il popolo di Edom Discendeva da Esau Il gemello di Giacobbe Si è sempre pensato Che avesse una vera e propria parentela Con il popolo di Israele Tuttavia Tra i due popoli Non vi era aiuto reciproco Ma recriminazioni ostili E accuse di tradimento Israele e Edom Hanno avuto una lunga storia Di guerre e rivalità L'orgoglio però Finisce per rovinare Edom La superbia del tuo cuore La superbia del tuo cuore ti ha ingannato Tu che abiti nelle caverne delle rocce Delle alture fai la tua dimora E dici in cuor tuo Chi potrà gettarmi a terra? L'orgoglio è il contrario dell'amore L'amore non è orgoglioso Non si vanta Quando poi Gerusalemme Cade sotto l'esercito babilonese Nel 587 avanti Cristo Edom spinge gli Edomiti A non fare nulla E probabilmente trae profitto Dalle sventure di Giuda Abdiah dice Non guardare con gioia Al giorno di tuo fratello Al giorno della sua sventura E continua Come hai fatto tu Così a te sarà fatto Ciò che hai fatto agli altri Ricadrà sul tuo capo Quando un nemico cade Non dovremmo mai esserne contenti Piuttosto dovremmo mostrare La nostra compassione Come estensione della misericordia di Dio Su tutti noi Abdiah parla della grande liberazione Che avverrà nel giorno del Signore Scrive È vicino il giorno del Signore In quel giorno Avrà luogo la grande liberazione Saliranno vittoriosi Sul monte di Sion Per governare il monte di Esau E il regno sarà del Signore Un giorno Il popolo di Dio Assumerà le redini del governo E amministrerà la giustizia di Dio Rappresenterà il governo di Dio Nel regno di Dio Con la venuta di Gesù Il regno di Dio Ha fatto irruzione nella storia Quando Gesù tornerà Vedremo il regno di Dio In tutta la sua pienezza In quel giorno Tutte le profezie di Abdiah E di altri Si realizzeranno Saremo liberati da ogni ingiustizia Signore Ti ringraziamo Perché un giorno ci sarà giustizia per tutti Nel frattempo Aiutaci a combattere le situazioni di ingiustizia che incontreremo Grazie a tutti